Iriana Manic, palleggiatrice di una 3M Perugia che finalmente si sblocca dopo un tie-break perso a Moie, arriva la vittoria sospirata in casa e poi raggiunta nel derby, una bella soddisfazione. Volevamo questa vittoria appunto perché era il derby ma anche magari se noi non la sentiamo tanto da fuori, comunque per dare una soddisfazione alla società e devo dire che il lavoro che facciamo in allenamento si è visto finalmente e potevamo portare il cacato ai tre punti però qualche errore in meno ci sarebbe stato dai. Siamo ancora all'inizio del campionato, come procede l'affinamento del gioco con le tue compagne? Beh adesso stiamo lavorando un po' col gioco al centro, abbiamo bisogno un po' più di provare delle palle al centro per dare credibilità al gioco e in modo da poterlo farlo diventare un grado superiore no? E niente aspettiamo il rientro di mezza Soma e di Mazzoni, non mi veniva il cognome e dai le aspettiamo a braccia aperte che speriamo guariscano bene. Cosa può significare questa vittoria nella testa del Perugia? Le vittorie fanno sempre bene, anche negli allenamenti sicuramente, saremo più cariche per la prossima partita.